Grazie intanto di essere qui, io mi chiamo Denis Maggiorotto, ho portato a questa sessione di Abito Vistory quello che è stato un esperimento, un esperimento che è nato quasi casualmente, è nato con mia figlia che dopo proveremo a introdurre in questo talk. L'esperimento verte sul rifacimento di The Legend of Zelda, il gioco che ad oggi è diventato un gioco icona che risale agli anni 80, nel 1986, ho provato a replicarlo in maniera spero, credo, fedele con la piattaforma Scratch che penso conosciate, è una piattaforma utilizzata ad oggi per insegnare la programmazione ai ragazzi. Quindi noi abbiamo semplicemente usato lo strumento che già si usa ad oggi per insegnare la programmazione ai ragazzi dandogli però una forma un pochettino più divertente, quindi tentando di replicare un videogioco quello che ha appassionato milioni di persone, tra cui me, oramai qualche anno fa, abbiamo provato a rifarlo con la piattaforma Scratch e abbiamo ricavato da questo un percorso. Questo percorso è un percorso formativo, tutt'altro che completo, anche perché il gioco è abbastanza lungo, sarebbe impossibile rifarlo completamente, ma abbiamo semplicemente cercato di ricavare una motivazione in più, se mai ce ne fosse bisogno, per fare appassionare i ragazzi alla programmazione. Quindi in questo talk, questo breve talk, quello che farò è semplicemente farvi vedere che cosa abbiamo fatto e come siamo riusciti a replicare quelli che sono i movimenti del personaggio più tutta una serie di attitudini del personaggio all'interno della piattaforma Scratch. Ecco, l'idea è nata semplicemente per il fatto che un anno fa, oramai, abbiamo comprato, acquistato The Legend of Zelda. Probabilmente, lo sapete ad oggi, The Legend of Zelda, che continua appunto a mietere successi, tant'è vero che l'ultima versione di The Legend of Zelda, Breath of the Wild, uscita nel 2017, ha vinto tantissimi premi ai Game Awards, tra cui appunto, questo sembra quasi un messaggio pubblicitario, però è tutto vero, questo The Legend of Zelda è un gioco molto completo, che fa uso anche di, diciamo, di tecniche molto avanzate di programmazione. Chiaramente noi ci siamo appassionati al gioco, ma sarebbe impossibile ricavarne un qualcosa, come ad esempio un percorso formativo, dal videogioco, diciamo, del 2017, è troppo complicato. I ragazzi sicuramente ci giocano, si appassionano, ma non sarebbero in grado di replicarne neanche una scena. Quindi, siccome The Legend of Zelda, tra l'altro, ha compiuto il trentunesimo anno di vita, quindi, diciamo, le origini del gioco risalgono ben più indietro. Dicevo, nel 1986 The Legend of Zelda, la primissima versione, è stata rilasciata da Nintendo per una console che, non so se avete mai sentito, si chiamava il Famicom, il Family Computer. È una console che ha avuto un relativo successo in Giappone. In Italia è arrivata, anche se, diciamo, sono state vendute pochissime copie, perché poi è stata subito rimpiazzata dal NES. Il NES è probabilmente quella console che, magari, alcuni di voi hanno avuto, il Nintendo Entertainment System, adesso poi lo vedremo. Quindi The Legend of Zelda, in Italia, è arrivata, il successo di The Legend of Zelda è arrivato proprio sul Nintendo, sul NES. Quindi, questa è probabilmente, la riconoscerete quantomeno nell'immagine, è la versione di, appunto, Nintendo Entertainment System con quello che è The Legend of Zelda del 1987, perché, appunto, sul Nintendo NES è arrivata un anno dopo rispetto al release iniziale. Ecco, innanzitutto c'è una differenza sostanziale in quella che è la grafica. Chiaramente questa qui è grafica 8-bit, stiamo parlando di tanti anni fa, la potenza di calcolo era assolutamente diversa da quella di oggi. Tuttavia, un gioco come questo, con tutte le limitazioni grafiche che poteva avere, è riuscito comunque ad appassionare, credo, milioni di giovani degli anni 80, tra cui me, naturalmente. Ecco, una grafica come questa si presta sicuramente molto meglio per insegnare la programmazione ai ragazzi, quindi per fargli comprendere come dietro a un videogioco, che loro usano semplicemente come fruitori, c'è tutta una serie di logiche, di algoritmi, c'è un qualcuno che si è messo a tavolino e lo ha fatto funzionare, lo ha creato come se fosse un gioco che deve essere montato. Quindi l'idea è stata proprio quella di, tra l'altro, non solo con Zelda, io porto in esempio anche altri videogiochi degli anni 80, come ad esempio, adesso potrei iniziare a farvi delle domande, ma questo qui è un altro gioco di Nintendo, molto famoso, non so se ve lo ricordate, quello dove voi avevate la pistola, dovevate sparare le papere, e c'era il cane che vi prendeva in giro se sbagliavate mira. Naturalmente c'è Sonic, Castlevania, piuttosto che, vabbè, Zelda lo abbiamo già visto, Alex Kidd, che è un titolo che ha avuto anche abbastanza successo sul Sega Master System, e poi naturalmente l'intramontabile Super Mario, che appunto assieme a The Legend of Zelda hanno, diciamo, conquistato milioni di ragazzi sino ad oggi. Tutti questi giochi hanno in comune una facilità anche di utilizzo del personaggio, abbastanza favorevole per essere utilizzata a insegnare la programmazione ai ragazzi. Quindi l'esempio che io ho fatto con The Legend of Zelda è assolutamente replicabile con qualsiasi altro videogioco che abbia queste caratteristiche. Quindi, l'accoppiata e risultata vincente, Scratch, più un qualsiasi videogame degli anni 80 con grafica 8-bit, io l'ho trovato uno strumento abbastanza utile per insegnare la programmazione ai ragazzi. Io l'esperimento l'ho fatto appunto con mia figlia, che ha 7 anni, che tra poco farò venire qui, perché sennò non avrò pace finché per tutta l'eternità. Ci siamo divertiti nell'appunto replicare alcune schermate di gioco. L'esempio appunto potrebbe essere fatto con un qualsiasi altro videogame di quell'epoca. Perché proprio questi videogiochi? Perché, sebbene ad oggi non avrebbero un grande successo, perché probabilmente i ragazzi di oggi, se vedessero un videogioco di questo tipo con il semplice scopo di doverci giocare, probabilmente non si appassionerebbero o lo troverebbero drammaticamente diverso dai videogiochi che usano banalmente sul telefono cellulare. Tuttavia, grazie alla grafica molto minimale, la semplicità anche di comprensione di quello che è la missione del gioco, il fatto che siano comunque divertenti e facili da giocare, facili da programmare e che richiedono poche risorse hardware, sono, secondo me, l'oggetto migliore per appassionare i ragazzi e la programmazione. Ecco, io, probabilmente voi conoscete Scratch, quindi io non mi dilungo tanto su che cos'è Scratch. Scratch, l'unica novità che magari diciamo è che Scratch è una piattaforma di sviluppo che tramite primitive grafiche è in grado di insegnare quelli che sono i rudimenti della programmazione ad oggetti per ragazzi che tendenzialmente hanno un'età, diciamo, scolare dai 10-15 anni, insomma, poi alcuni esperimenti appunto sono fatti anche con ragazzi un pochettino più giovani. Ad oggi Scratch si programma sul web piuttosto che usando un editor offline. La grossa novità in realtà deve ancora venire perché ad agosto 2018 è prevista la release 3 di Scratch che dovrebbe essere anche un pochettino più friendly per essere utilizzata su telefoni cellulari piuttosto che iPad o comunque tablet di vario genere. Quindi, intanto anche solo per alzate di mano, quanti di voi hanno mai avuto a che fare con Scratch a livello un pochettino più, magari dico avanzato, nel senso che magari avete dovuto insegnare a qualcuno come fare muovere i passi al classico gattino che si vede solitamente. Grazie Margherita. Ok, sono in due. Scratch è fatto da diverse componenti che si collocano all'interno, diciamo, della videata. Adesso io provo a descriverle in modo tale che poi possiate comprendere il videogioco che è stato replicato in sé. Intanto Scratch si compone della videata all'interno della quale io vado a collocare tutte le varie componenti che daranno vita al mio videogioco. In questa videata io, al di là appunto di vedere quelli che sono, poi li chiameremo gli sprite, che sono i personaggi veri e propri, o anche la possibilità di vedere alcune variabili che, diciamo, si modificano durante il gioco e mi danno la possibilità di vedere, diciamo, di dare un'occhiata a tutta una serie di aspetti che poi vedremo subito dopo. Scratch prevede il concetto di backdrops, quindi la videata naturalmente ha degli sfondi. Gli sfondi sono diversi, possono essere cambiati durante il videogioco in modo tale da adattare lo sfondo della schermata a quella che è l'ambientazione corrente. Quindi ogni schermo può avere diversi sfondi e posso sceglierli programmaticamente in modo tale da appunto dare uno sfondo a quella che è l'ambientazione attuale. Questi sono gli oggetti che sono quelli che compongono il videogame in sé, gli sprite. Intanto il concetto di sprite, il nome proprio è un qualcosa che deriva proprio dai videogiochi di una determinata epoca. Noi i videogiochi 8-bit avevano degli sprite e li ritroviamo nella stessa identica maniera all'interno di Scratch. Quindi qua si può già vedere come in realtà gli sprite che abbiamo utilizzato per questo esperimento sono naturalmente il personaggio Link. Link, per chi non conoscesse Zelda, è quel supereroe che è chiamato a liberare la principessa da tutta una serie di mostri che la tengono prigioniera. Quindi Link, il personaggio, è uno sprite, ma ci sono anche altri sprite perché ci sono i vari mondi. Questa qui è l'ambientazione all'interno del quale il nostro supereroe si trova a camminare per, dopo vedremo, in realtà i mondi sono tantissimi, la mappa di The Legend of Zelda, sebbene sia un gioco molto, molto vecchio, è molto complessa. Poi altri sprite sono, ad esempio, il classico vecchio che dà Link a tutta una serie di armi piuttosto che pozioni, la spada, la spada che usa Link stesso per sconfiggere il male e anche essa uno sprite. Quindi tutto quello che io vado a calare su questa videata saranno gli oggetti che posso utilizzare nella programmazione del videogioco. Poi, naturalmente, questo è un altro aspetto molto utile nel programmare un videogame. Ogni sprite ha diversi, io uso i termini in inglese per un determinato motivo. Se cercate documentazione, se vi appassionate alla programmazione, in ambito informatico qualsiasi informazione dalla documentazione, piuttosto che tutorial, eccetera, inevitabilmente usano la lingua inglese. Quindi, secondo me, anche a livello scolastico, fatto con un determinato percorso formativo, il termine in inglese aiuta sicuramente il ragazzo che poi magari si trova su internet a dover cercare determinate soluzioni del proprio problema. Quindi, dicevo, gli sprite hanno diversi costume. Il costume che cos'è? Semplicemente il vestito. Quindi, un determinato sprite, quindi un determinato oggetto, in un momento ben preciso del videogioco, può assumere dei vestiti differenti, quindi può assumere una sembianza differente. Dopo vedremo che semplicemente il cambiamento di costume del nostro personaggio Link farà sì che questo produca un'animazione che diventa poi di fatto la camminata del personaggio che si muove e si sposta. Così come anche, diciamo, il mondo esterno all'interno del quale Link cammina è stato ricavato semplicemente andando a cambiare il costume dello sprite che identifica proprio l'ambientazione esterna del nostro personaggio. Adesso vediamo la parte, diciamo, quella un pochettino più interessante. Noi adesso abbiamo visto tutte le primitive grafiche che sono state utilizzate. In realtà, fare un videogioco, ma comunque programmare significa saper scrivere del codice. Il codice può essere quella cosa brutta, difficilmente comprensibile che tutti noi siamo abituati a scrivere, magari noi informatici, per fare funzionare le macchine, oppure può essere, questa è la grande intuizione che hanno avuto le persone che hanno ideato Scratch, il codice può essere anche visuale, può avere dei colori molto semplici anche da ricordare, da saper distinguere, e può essere strutturato sotto forma di blocchi. Quindi, semplicemente, incastrando i blocchi uno con l'altro, laddove appunto il blocco possa essere utilizzato, noi andiamo a produrre una sequenza di istruzioni che sono quelle che ci danno la possibilità di animare un personaggio, piuttosto che di far partire un filmato e via discorrendo. Quindi, la programmazione vera e propria degli sprite viene fatta all'interno di queste sequenze di blocchi che nel linguaggio Scratch prendono il nome di script. E poi ci sono i suoni perché un videogioco che si rispetti non può non avere una colonna sonora. Soprattutto le colonne sonore dei giochi a 8-bit erano diciamo molto semplici e possono essere caricate all'interno di un programma fatto con Scratch per riprodurre esattamente quella che era anche l'ambientazione sonora del personaggio che si muove all'interno. Quindi, adesso questo schema è magari un pochettino difficile ma ci serve per darci l'idea di quali sono tutte le componenti che io posso utilizzare all'interno di Scratch. Si legge in questa maniera. Scratch naturalmente abbiamo detto ha una videata. La videata raccoglie può avere diversi backdrop che sono gli sfondi. La videata può contenere diversi sprite magari tutti nello stesso momento perché il videogioco può prevedere appunto che in un determinato momento ci siano più attori che lo compongono. Gli sprite hanno diversi costume naturalmente uno sprite può avere un solo costume per volta quindi è compito dello script sapere quando cambiare di costume quel determinato sprite così come gli sprite possono avere diversi script dopo vedremo che gli sprite comunicano tra di loro quindi magari ci sono degli script che servono per fare reagire quello sprite alla ricezione di un determinato evento oppure altri script che servono per animarlo e lo sprite può avere associato uno o più suoni quindi questo è un piccolo diagramma che ci serve semplicemente per vedere anche qual è diciamo la cardinalità dei vari oggetti che io posso utilizzare quindi questa è un'immagine tratta dalla videata dall'offline editor di Scratch ed è presa direttamente dal nostro esperimento quindi semplicemente noi abbiamo la videata di cui vi parlavo prima dove compaiono già tutti gli oggetti che sono stati posizionati abbiamo gli sfondi backdrop abbiamo gli sprite e poi qui possiamo scegliere se visualizzare gli script modificare anche graficamente un determinato costume perché lo vogliamo personalizzare oppure abbiamo tutta la raccolta di suoni che sono stati caricati quello che vediamo in questa parte destra dello schermo si riferisce allo sprite che in quel momento è stato selezionato quindi banalmente io cliccando sui diversi sprite avrò diciamo vedrò comparire sulla parte destra diversi script costume suoni tutto quello che è stato previsto per quel determinato sprite quindi partiamo da un esempio vero e proprio noi abbiamo animato link gli abbiamo fatto mimare quello che è una camminata la camminata non è nient'altro che il cambiamento repentino di costume sullo sprite di link a seconda appunto di quale freccia della tastiera io vado a premere quindi io naturalmente non vi andrò a descrivere questo blocco di codice leggendolo perché sarebbe un pochettino noioso semplicemente io tramite lo script che ho associato a quello sprite sono andato ad intercettare l'evento di pressione della freccia sia essa una freccia alta bassa destra o sinistra e semplicemente vado a fare un qualcosa quel qualcosa vuol dire cambiare il costume allo script in maniera alternata quindi mi mando quella che è la camminata di un diciamo di un personaggio di un videogioco degli anni 80 ecco una cosa molto importante perché noi abbiamo detto che all'interno di un videogioco ci sono diversi sprite questi sprite devono avere la possibilità di dialogare tra loro quindi si mandano dei messaggi ti ricordi Margherita si mandano dei messaggi gli sprite tra di loro allo scopo appunto di modificare tutta quella che è l'ambientazione che li circonda quindi è una sorta di programmazione asincrona concorrente quella che troviamo ad oggi nei programmi ben più complessi di un videogioco fatto in scratch questa funzionalità può essere anche mimata con scratch dando già diciamo delle nozioni anche di programmazione asincrona concorrente cosa che magari i ragazzi poi se si appassioneranno alla programmazione troveranno più avanti nel tempo quindi abbiamo detto che gli sprite tra di loro si mandano dei messaggi ci sarà naturalmente un qualcuno che invia un messaggio e un qualcun altro che rimane in ascolto di quel messaggio per ad esempio modificare la videata di gioco poi vedremo come tutto questo funziona diciamo nell'ensemble ecco vi dicevo che l'ambientazione di The Legend of Zelda nonostante sia un gioco degli anni 80 nonostante impallidisce se messo a confronto con i videogiochi di oggi ha una mappa molto molto complessa noi l'abbiamo tradotta sotto forma di matrice questa è una tabella dove ogni casellina corrisponde ad un'ambientazione del personaggio link questo è stato necessario poi vedremo per gestire quello che è il cambio di videata l'abbiamo trasformato in una matrice e quando occorrono determinati eventi semplicemente andiamo a cambiare la videata diciamo in questo caso cambiamo il costume dello sprite che rappresenta il mondo circostante quindi parliamo del cambio di videata il cambio di videata è fatto andando a mettere determinati limiti a quello che è la schermata corrente e intercettando l'evento di link che si scontra contro il limite che è stato messo quindi quando link questo è diciamo la parte di script che mi consente di fare questo tipo di animazione quando link si sposta e va a toccare quello che è il limite destro sinistro alto basso produce un evento che viene ascoltato atteso da altre parti del videogioco in modo tale da cambiare la schermata quindi di fatto diciamo questa funzionalità è stata mimata in questa maniera quando link tocca una di quelle barre che rappresentano i confini del videogame semplicemente io vado a cambiare il valore di alcune variabili che sono quelle poi utilizzate dallo sprite che rappresenta il mondo circostante per cambiare quello che è il proprio costume e quindi cambiare la videata ecco la schermata H8 è quella è quella di inizio dove il videogioco inizia poi vi faccio di nuovo vedere la complessità di quella che nonostante sia un gioco degli anni 80 e molto molto vario anche di ambientazioni quindi queste sono semplicemente le videate che abbiamo fatto noi sarebbe inimmaginabile un secondo mestiere doverlo replicare completamente questo è quanto ci è bastato per fare questo tipo di esperimento l'obiettivo è anche quello di invogliare diciamo domani anzi sì domani mattina ci sarà un coder dojo qua da Bitovistory che sarà basato proprio su The Legend of Scratch questo che è il nostro diciamo percorso formativo l'obiettivo è anche poi di dire ai ragazzi di aumentare quelle che sono le videate del videogame e magari aumentare i comportamenti del personaggio Link ecco quello che segue sono solo alcuni altri esempi di come sono state gestite determinate dinamiche del videogioco degli anni 80 faccio un esempio tutta la mappa è disseminata di caverne adesso qua si vede poco perché è un pochettino sfocato ma è disseminata di caverne Link all'interno di queste caverne trova di tutto dalle spade dalle pozioni trova i triforce che sono quell'oggetto che è chiamato a ricomporre per liberare la principessa Zelda quindi l'oggetto caverna è un altro sprite che è stato posizionato all'interno del video in attesa che Link lo tocchi Link toccando l'oggetto caverna produce tutta una serie di cambiamenti di videata e di contesto produce il cambiamento ad esempio di backdrop produce il cambiamento di costume dello sprite che rappresenta il mondo quindi è stato gestito con un ennesimo sprite che rappresenta l'entrata della caverna ecco quindi quando Link tocca questo quadratino produce degli eventi tali per cui si modifica il mondo circostante ecco così come questa è la famosa scritta che poi è entrata nella storia it's dangerous to go alone take this ed è il primo messaggio che riceve Link nel dotarsi di una spada che inizialmente è di legno che poi evolverà nel corso del videogioco anche questo di fatto è uno sprite uno sprite che si compone di diversi costume adesso non è così evidente ma di fatto ogni costume di questo sprite incrementa la scritta di una lettera quindi di fatto all'entrata della caverna attraverso questo blocco di codice viene diciamo innescata la diciamo la stampa video del messaggio semplicemente cambiando il costume di questo sprite una volta al secondo queste sono per chi ha giocato insomma un tempo fa sono delle videate che sono abbastanza simili direi quasi uguali anche perché sono sono state proprio prese dal videogioco originale quindi la replica è quasi perfetta salvo diciamo aver fatto forse uno 0,5% del gioco in totale ma ecco così come anche l'uscita della caverna l'uscita della caverna è un altro pezzettino nero che quindi non si vede perché comunque lo sfondo della caverna è nero anch'esso ma che ci consente di intercettare l'evento di Link che avvicinandosi a questa barra scatena l'uscita dalla caverna e il cambio di nuovo del mondo sottostante quindi questa qui è la parte che descrive l'uscita della caverna una menzione particolare la dobbiamo fare per quanto riguarda le armi Link si doterà nel corso della sua avventura di tantissime armi che saranno poi quelle che gli consentiranno di liberare la principessa Zelda in Scratch abbiamo già parlato prima di variabili le variabili che cosa sono sono come dei contenitori sono come dei contenitori che io posso riempire con un valore che poi posso andare a leggere in un secondo momento ecco oltre alle variabili Scratch mi consente anche di utilizzare delle liste io quando spiego ai ragazzi che cosa sono delle liste degli array faccio sempre riferimento al sacchetto di caramelle una lista non è nient'altro che un sacchetto di caramelle che io posso riempire o posso svuotare all'occorrenza quindi anziché contenere un solo oggetto ne contengono diversi in questo caso Scratch gestisce le liste e io ho utilizzato una lista come borsa all'interno della quale Link mette le proprie armi quindi io semplicemente vado a controllare se Link ha già messo un'arma all'interno della lista vuol dire che entrando nella stessa caverna non dovrà più scatenare l'evento appunto di comparsa del vecchio saggio della scritta che si compone sullo schermo quindi ho fatto uso di una lista proprio perché potenzialmente le armi sono diverse Link non si doterà di un'unica arma durante il proprio cammino quindi io questa piena è una parte introduttiva naturalmente io ho finito con quella che è la descrizione del gioco naturalmente il gioco è stato ovviamente reso open source è stato pubblicato sulla piattaforma Scratch se lo cercate tramite QR code o comunque io sono denismaggiorotto il mio nickname è denismaggiorotto perché così era più corto e lo trovate tra i progetti che ho condiviso l'unica cosa l'ultima cosa che volevo dire è che la versione che è stata fatta è una versione molto didattica quindi non ha tante di quelle complessità necessarie a rendere il gioco poi magari fruibile tant'è vero che poi mi sono appassionato io stesso ne ho ricavato una versione molto più complicata che però è giocabile quindi ci sono nemici attacchi e via discorrendo naturalmente la complessità deve essere gestita soprattutto se ci rivolgiamo a dei ragazzi giovani e quindi mi interessava semplicemente non tanto fare il videogioco ma ricavare un percorso formativo che potesse essere utilizzato vieni con con mia figlia che si è divertita non so forse più di me nel farlo sicuramente a giocarci io ho finito grazie dell'attenzione se ci sono domande insomma mi rivedrete qui in questi giorni magari a portare avanti i ragazzi su questo percorso grazie mille vuol dire qualcosa io devo assolutamente fare questa cosa perché sennò però questo qua è l'uno vero è l'uno che abbiamo perché poi è importante anche conoscere il risultato allora Margherita ti sei divertita a fare questa cosa 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 vuoi dire voglio dire che Zelda è stato un videogioco molto bello soprattutto perché ci sono mille avventure e non è stato molto bello però quando finisce eh quando finisce i videogiochi ti lasciano sempre un po' di amarezza però voglio dire ok molto bene adesso poi andremo avanti magari il prossimo anno facciamo Super Mario chi lo sa vedremo grazie mille a tutti abbiamo finito però magari lo facciamo vedere che funziona visto che c'è ancora un po' di tempo purtroppo l'audio l'audio è lui è quello originale si sente poco perché si sente qui dal mio dal mio pc premendo premendo il tasto S S sta per start quindi il videogioco comincia anche l'inizio diciamo della videata è aspetta 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 mi serve questo hai ragione ma mi serve questa schermata questa qua è la videata iniziale anche l'entrata in scena con quella specie di sipario che si apre è uguale al videogioco originale entra nella caverna ok su 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 perfetto lascio qui un attimo ecco perché ho giocato al gioco originale questo è abbastanza simile ecco prendi la spada vedete che la spada compare nella parte alta quindi l'abbiamo messa all'interno abbiamo messa all'interno della lista ok e il vecchio sparisce adesso esci dalla caverna diciamo che lei mi ha fatto molto da beta tester questo si qualsiasi imprecisione mi veniva segnalata alla velocità della luce adesso rientra nella caverna ecco naturalmente non si scatena più l'evento perché nella lista compare già la spada di legno quindi il vecchio ha fatto il suo il suo mestiere esci ok adesso facciamo vedere la transizione da mondo a mondo vai in su ecco grazie mille a me serviva implementare questo cambio di scena ed è quello che ho implementato tra l'altro qui le strisce si vedono un pochettino le ho volutamente messe un pochettino così in primo piano in modo da farvi vedere come il cambio di scena sia innescato da link che incontra queste righe che danno il limite della videata torna indietro ok vai a destra qua è la prova la prova del 9 sull'andare a destra bravissima perfetto questo è il videogioco naturalmente non ci sono tante altre funzionalità perché comunque per renderlo per renderlo fruibile adesso lo stoppiamo così facciamo vedere anche quella adesso qua la risoluzione non è non è non è grandissima però appunto questi sono tutti i vari sprite che sono stati utilizzati qua abbiamo per ogni sprite abbiamo diversi script che abbiamo utilizzato quindi questo è il nostro progetto grazie a tutti grazie grazie a tutti